Gentili telespettatori, buona giornata. Saviano, dopo il nuovamente attacco contro Meloni, Salvini oggi ce l'ha con Piantedosi, perché è ministro dell'interno, quindi è un cattivo anche lui. Un governo di cattivi, anche Piantedosi è un cattivo. Dice che Piantedosi mente e tira in ballo il pull factor. Dice che cos'è il pull factor? È un nuovo tipo di maglione? Che cos'è il pull factor? Un pullover, x-factor, pull factor? Che cosa cavolo è il pull factor? Adesso lo vediamo. Roberto Saviano così insiste. Non contento, lo scrittore a processo per diffamazione, nei confronti di Meloni, oggi accusa Piantedosi di mentire. Piantedosi mente, scrive su Twitter, con il governo Meloni gli sbarchi non sono in calo. Sì, su questo lo possiamo dire. Questo gennaio rispetto al gennaio scorso è già record. Nei primi giorni del 2023 sono arrivati 3.673 migranti, nel 2022 ne erano arrivati 378. Oggi sono arrivati 10 volte i migranti dell'anno scorso. Dice il pull factor falso. Che cos'è il pull factor? Significa che le ONG sono un pull factor, sono un fattore di attrazione. Cioè, quando ci sono le ONG in mare, molti migranti decidono di partire anche in maniera autonoma perché sanno che ci sono queste navi in giro che, in caso di necessità, li possono aiutare. Quando Salvini aveva fermato più o meno tutte le ONG, ci sono stati due o tre mesi che non ce ne erano più in giro perché erano tutte sequestrate nei porti italiani, a quel punto gli arrivi e le partenze erano crollati del 75%. Nonostante le ONG portassero persone per il 15%, crollo del 75%, quindi vuol dire che la mancanza delle ONG in mare erano un deterrente alle partenze. E questo è una ovvietà, una ovvietà di cui ne abbiamo parlato tante volte. Le ONG sono un pull factor per le partenze. Ma secondo Roberto Saviano è falso, non è vero. dice che arriva con navi ONG il 10% dei migranti. No, Saviano, non è vero che arriva al 10%. Arriva dal 12% al 15-16%. Quindi perché già una persona che cerca di modificare i dati a proprio vantaggio già si capisce che tipo di persona è e che tipo di ragionamenti fa. Lo abbiamo visto nei giorni scorsi, abbiamo visto quello che diceva Saviano su Meloni e Salvini e lui accusa Meloni e Salvini di dire bugie, ma io ho analizzato ogni sua frase con i dati e vi ho detto che realmente è Saviano che dice bugie, però lui dice che sono gli altri. E qua già c'è la prima bugia anche in questo video. Arrivano con le ONG il 10% dei migranti, è un numero falso, se lo ha inventato. Arrivano dal 12% al 16%. E poi dice l'immigrazione va gestita con le sue complessità, il resto è propaganda. Cosa vuol dire va gestito con le sue complessità? Non si sa. Dice piantedosimente, ha paralizzato le ONG ma gli sbarchi sono in aumento. Il fenomeno va gestito, non ha usato. No Saviano, piantedosi non ha paralizzato le ONG. Sono tutte tranquillamente in funzione, stanno andando avanti e indietro, quindi anche questo è falso. Cioè piantedosi non ha paralizzato le ONG. Il decreto appena fatto è un autogol, cioè non serve a niente. Non serve a niente. Anzi, alle ONG viene, rispetto a prima, viene dato subito, immediatamente il porto di sbarco. Pertanto le nuove regole sulle ONG, di cui le ONG si erano lamentate, è stato un flop, perché le ONG hanno capito, vabbè o rispettiamo le regole o che facciamo? Ci sequestrano le navi? O andiamo a sbarcare in Francia? E così, le ONG stanno rispettando le regole. Porti più lontani, più spesa, più tempo, meno clandestini da portare in Italia, però meglio portarne poco che non portarne proprio, se ci confiscano le navi. Quindi le nuove regole sulle ONG sono state un flop, fino adesso, poi domani vediamo. Sono state un flop, pertanto, caro Saviano, qui è l'altra bugia, Piantedosi non ha paralizzato le ONG, sono vive e vegete tranquille che vanno avanti e indietro. Pertanto, quando lui dice che le ONG non sono un pull factor, perché sono paralizzate, gli sbarchi sono decuplicati, non è vero. E questo ve lo sto raccontando da diversi giorni. Purtroppo, analizzando le parole di questo scrittore famoso, vedo che sono costruite sulle bugie. Secondo me ci farebbe una figura migliore Saviano dicendo me non me ne frega niente, il mondo è di tutti, ognuno può entrare e uscire da un paese senza passaporto, senza dover chiedere il permesso, bisognerebbe togliere le frontiere in tutto il mondo. Saviano, di questo, onestamente, di questa è la mia idea e chiunque vuole impedire alla libera circolazione mondiale delle persone secondo me sbaglia. Sarebbe la tua opinione, opinabile, contestabile, ma non la tua opinione. Però, cercare di avvalorare le proprie idee, tesi, raccontando delle bugie, allora passi dalla parte del bugiardo e non è bello. Ma lo dico per lei, Saviano, grande scrittore di Comorra, quasi 15 milioni di copie, essere così sgamato su delle bugie plateali e queste che sono bugie, non è una mia opinione, sono dei dati, sono delle cose sapute e risapute. Mi stupisco quelli che sostengono questo scrittore. Sarà un grande scrittore, un opinionista italiano, un giornalista, va bene, però io se fossi di sinistra non starei a difendere Saviano perché quando mi rendo conto che dice delle bugie per avvalorare delle sue tesi, dico, no, non ci siamo. le tue tesi devi essere coerente, sincero e dire io la penso così, punto, non racconto delle bugie perché so che le mie tesi non stanno in piedi, allora racconto delle bugie. Non è propriamente bella. Qualche giorno fa Saviano diceva che Piantedosi si trova schiacciato da Matteo Salvini che l'ha costruito e voluto mettere lì, ma è chiaramente un ruolo che gli sta stretto e gli sta dando anche fastidio. Anche qui è una bugia. Piantedosi non è stato costruito da Salvini. Piantedosi è un prefetto di lunga carriera che era già al Viminale quando è arrivato Salvini, è un tecnico. Quindi un tecnico promosso a ministro non credo che gli dia proprio fastidio. quindi non è un ruolo che gli sta stretto. Anche qui sono altre bugie. Vi devo dire che ci sono altre bugie. Grazie a tutti e arrivederci a presto.